Buongiorno, oggi ci occupiamo appunto dell'aggiornamento 2016 del piano nazionale anticorruzione che in ordine temporale è il secondo degli aggiornamenti che ci sono stati al piano nazionale. Abbiamo avuto il piano nazionale a settembre 2013 come documento strategico post legge 1990-2012, poi nell'ottobre 2015 abbiamo avuto un primo aggiornamento del piano nazionale molto dedicato ai processi a rischio e anche alla modalità di valutazione del rischio e abbiamo circa la metà del 2016 un nuovo aggiornamento piuttosto corposo del piano nazionale anticorruzione Da un punto di vista della documentazione, più che un nuovo piano nazionale abbiamo più che altro delle linee guida, nel 2016 le linee guida si concentrano soprattutto su alcune particolari questioni che l'obiettivo è quello di migliorare i piani internazionali di prevenzione della corruzione, per questo anche erano stati auditi una specie di consultazione anche i responsabili della prevenzione della corruzione con un incontro che si era tenuto nella prima metà di quest'anno. Cominciamo un pochino a vedere quali sono in sintesi perché poi vediamo come si sviluppano le questioni che pone il nuovo piano nazionale e aggiornamento del piano nazionale. La prima grande questione, che è una questione dirimente sulla qualità delle strategie anticorruzione italiane, delle singole amministrazioni e il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione. Questa è un po' una questione ormai che ci portiamo appresso un pochino da quando è uscita la legge 190. Voi sapete che il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione è centrale perché è quello che coordina tutte le attività di prevenzione della corruzione, scrive il piano triennale di prevenzione della corruzione, in qualche maniera ne segue anche l'attuazione, quindi è una figura cardine all'interno dell'organizzazione amministrativa proprio nell'ottica di sviluppare una credibile reazione di prevenzione della corruzione all'interno del singolo ente, ma questa figura è sempre stata al centro di parecchie questioni perché se ne valutava la scarsa indipendenza dall'organo politico etc. Vediamo poi come il piano nazionale cerca di risolvere un po' questo tipo di situazioni. Anche la nuova figura perché al responsabile di prevenzione della corruzione si affianca anche la competenza e il ruolo del responsabile della trasparenza. Quindi questa è la prima situazione. La seconda è previsto maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei piani, quindi c'è un maggior coinvolgimento degli attori interni con particolare riferimento alla componente politica, altra questione rilevante che ci portiamo sempre appresso da quando è uscita la legge 190. C'era un certo disimpegno, vogliamo chiamarlo così, della componente politica, si sta cercando faticosamente di riallineare anche la politica alla prevenzione della corruzione, come è assolutamente giusto che sia perché le decisioni vengono prese spesso e volentieri, anzi quasi sempre, a un livello sicuramente più alto della componente amministrativa. L'ultima questione anche fondamentale è la semplificazione in ambito in materia di trasparenza e c'è questa famosa unificazione, quindi la scomparsa del programma triennale della trasparenza e dell'integrità e questo lo detta non tanto il piano nazionale quanto la nuova legge, quindi queste sono i grandi macro aree di intervento del nuovo piano nazionale, dell'aggiornamento del piano nazionale. Quali erano i problemi, i problemi che poi hanno dato vita ai successivi aggiornamenti? Come vedete qui queste sono le criticità rilevate già nell'ottobre 2015 con l'uscita del primo aggiornamento, grosse difficoltà come vedete nella valutazione dei rischi, perché? Perché c'era una scarsa capacità di mappatura dei processi, vedete inadeguata al 73,9%, chiaramente questa è una rilevazione fatta nell'anno 2015, non ci aspettiamo che in 6 mesi possa essere cambiato molto, vedete problemi grandi ce li abbiamo appunto sulla metodologia di mappatura dei processi di valutazione dei rischi, ma anche sul coinvolgimento degli attori interni che è inadeguato del 61%, quello del coinvolgimento degli attori esterni, assente addirittura nel 55% dei casi, l'assenza poi dell'analisi del contesto esterno spesso, non c'è proprio, voi sapete, non so se ve l'ho già detto in presenza, però l'analisi del contesto esterno e l'analisi del contesto interno in un piano di renali di prevenzione della corruzione rappresentano un po' l'analisi dei fabbisogni in un comune documento strategico, in un progetto, etc. Spesso e volentieri io noto che a volte non c'è proprio scritto nulla nei piani di renali di prevenzione della corruzione, mentre invece per esempio l'analisi del contesto interno fatta bene un'analisi che ti permette poi di fare una valutazione dei rischi in maniera abbastanza realistica, quindi l'attenzione che l'aggiornamento del piano del 2015 faceva era valutare attentamente il contesto esterno e il contesto interno, perché quello ti permette di fare una buona mappatura dei processi, una buona ponderazione dei rischi, questo era un po' l'obiettivo. Questo era completamente o diciamo in maniera prevalentemente assente nei piani di renali di prevenzione della corruzione del 2015. Nel 2016 qualcosa si comincia a vedere, per esempio l'analisi del contesto esterno è cresciuta la percentuale della PA che lo ha effettuato, già importante che almeno si riempia una casella, poi bisogna vedere come viene descritto il contesto esterno, però intanto comincia a presentarsi questa situazione. Attimo, perdonami, sono costretta a parlare un secondo il webinar perché mi segnalano che ci sono alcune persone che non riescono a sentire, qualcun altro è entrato in aula da poco e quindi diciamo che avrebbero bisogno di recuperare un attimo i primi minuti di webinar che hanno aperto. So perfettamente che abbiamo appena iniziato, però ecco, se potessi un attimo fare un brevissimo cappello per inserire nuovamente il contenuto del webinar di questa mattina, allora possiamo... Ecco, diciamo, forse giustamente, ma di che cosa sta... ...qualcuno è riuscito a parlare successivamente, diciamo che abbiamo il broadcast in una stessa aula, chiaramente, se loro non consentono o entrano in un commento effettivo, chiaramente è un notevole numero di partecipanti che in qualche modo non ha... che per i primi minuti... Quindi ti ringrazio... Allora, sì, non c'è nessun problema anche perché avevamo iniziato da pochissimo, rifaccio diciamo un brevissimo cappello. Stiamo parlando dell'aggiornamento 2016 del piano nazionale anticorruzione. Si tratta, come dicevo prima, del secondo aggiornamento, ce n'è stato uno in ottobre 2015 e questo aggiornamento in sintesi prende in esame, diciamo, tre elementi fondamentali che sono, per esempio, il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione, un ruolo abbastanza critico, cruciale all'interno della strategia anticorruzione, quindi come vedrete in seguito nel webinar, ne parleremo abbondantemente, per vedere come il piano nazionale dà delle risposte a molteplici interrogativi legati soprattutto alla selezione del responsabile, alla suo status di autonomia barra indipendenza all'interno dell'organo amministrativo, eccetera, maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei piani, al secondo problema evidentemente grande che avevamo sempre avuto, come coinvolgere gli organi di indirizzo politico, la componente politica nella strategia anticorruzione, erano sempre rimasti in questi tre anni di attuazione di questa legge un po' ai margini e quindi vedremo come il piano nazionale cerca di coinvolgere. E poi la semplificazione in ambito trasparenza che viene dettata non tanto dal piano nazionale quanto dalla legge 97 del 2016. Poi posso integrare proprio perché se sono entrati i colleghi del Brozzo possiamo dire che il nuovo piano nazionale anticorruzione ha una corposa sezione dedicata esclusivamente alla sanità pubblica, di cui tra l'altro ci occuperemo più tardi nel webinar, quindi è importante anche per questo perché c'è questa importante sezione. Le criticità rilevate le abbiamo un po' illustrate brevemente, ci dedichiamo adesso a vedere le criticità rilevate nel piano nazionale 2016, come vedete, come vi stavo raccontando fino a quando ci siamo brevemente interrotti, si cominciano a intravedere le famose analisi del contesto esterno e del contesto interno, cioè due sezioni del piano che fino ad oggi sono state un po' prese, non troppo prese in considerazione. Così anche come il numero dei processi censiti sicuramente è aumentato, è aumentato anche di qualità con tutti i problemi che ci sono, il ruolo del responsabile, vedete, continua a permanere criticità, una buona percentuale esplicitata dei poteri di interlocuzione e di controllo, la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa, eccetera. Quali sono le debolezze di questi piani? Ancora oggi le debolezze sono la quantità e la qualità dei processi censiti, ma questo era abbastanza chiaro che va fatto un esame graduale dei processi censiti, soprattutto in riferimento alla complessità delle organizzazioni, immaginiamo un'amministrazione come la regione Sardegna, non può secondo me censire tutti i processi con la stessa qualità in un unico anno di programmazione, c'è bisogno di più tempo, così anche come le analisi del contesto interno. Quindi piano piano anno dopo anno si accumulano competenze, si accumula qualità e dopo cominciamo a vedere piani sicuramente migliorati nel tempo. Vediamo quali altri contenuti dei piani internazionali di prevenzione della corruzione il piano nazionale individua come cruciale. Un elemento fondamentale su cui si batte costantemente negli aggiornamenti sono i famosi obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo, c'è bisogno, dice afferma il piano nazionale già affermato nell'aggiornamento 2015, di un passaggio dall'organo di indirizzo politico, cioè la componente politica deve fissare alcuni obiettivi che poi devono trovare la loro attuazione all'interno del documento del piano triennale di prevenzione della corruzione. Perché? Perché questo dà valore al piano, un chiaro mandato politico è sicuramente ciò che cambia, che fa fare il salto di qualità sia in termini proprio di qualità dell'analisi dei processi, sia soprattutto in termini di coinvolgimento degli attori interni. Un buon piano triennale di prevenzione della corruzione non può essere fatto a tavolino da un soggetto o da un piccolo gruppo di soggetti, ma deve essere un piano condiviso a livello soprattutto dei referenti apicali, quindi dei dirigenti apicali. Per quanto concerne la trasparenza, devono essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati. Ultimo elemento, anche questo è un elemento che assicura un salto di qualità nella progettazione, nella pianificazione, è la partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholder, cioè di tutti quegli attori interni ed esterni nell'elaborazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sia in termini proprio di coinvolgimento dei cittadini, sensibilizzazione dei cittadini alla cottura della legalità, sia poi in altri termini. Abbiamo già visto alcuni esempi anche della regione Sardegna di coinvolgimento per esempio delle scuole attraverso progetti, questo va rafforzato sicuramente. Cominciamo con il coinvolgimento degli attori interni, organi di indirizzo politico, la questione fondamentale riguarda la dinamica che c'è tra la componente politica e i responsabili della prevenzione della corruzione. Vedete, al terzo punto il piano nazionale cerca di dare delle linee importanti, cioè gli organi di indirizzo devono assumere decisioni per fare in modo di introdurre modifiche organizzative per assicurare al responsabile della prevenzione della corruzione funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Questo è un principio fondamentale, diversamente il responsabile non trova né il tempo né la modalità per svolgere la propria funzione, anche perché sapete benissimo che il responsabile della prevenzione della corruzione non fa solamente quello di mestiere, ma assume quell'incarico insieme a tutti gli altri incarichi che già svolge all'interno dell'organizzazione. Altro compito che cerca in qualche maniera di introdurre il piano nazionale per coinvolgere gli organi di indirizzo politico, gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del responsabile, lo possono chiamare a riferire sull'attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione. Questo coinvolgimento il piano nazionale lo intende attraverso una dinamica, un dialogo costante tra responsabile della prevenzione della corruzione e gli organi di indirizzo, quindi immaginiamo un ospedale, la direzione generale, una regione, la giunta, presidente e tutti quelli che hanno a che fare con quel sistema. Rafforzamento del ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione, per esempio come si fa? Secondo, non tanto il piano nazionale, questo è proprio l'articolo 42 della legge 1997 del 2016, o l'organo di indirizzo politico dispone modifiche organizzative per assicurare che al responsabile vengano attribuite funzioni e potere idonee per lo svolgimento dell'incarico, con piena autonomia ed effettività, i termini sono importanti, perché qua si usa il termine autonomia, nella legge e nel piano possono utilizzare il termine indipendenza, perché nell'architettura della legge 190 non si può assicurare l'indipendenza, perché il responsabile viene nominato proprio dall'organo di indirizzo, quindi non si può utilizzare quel termine, ma si può utilizzare un termine molto diverso chiaramente dal punto di vista del significato, che è autonomia ed effettività. Altra questione di rimente è che il responsabile deve svolgere il suo compito in modo imparziale al riparo da possibili ritorsioni, vengono introdotte alcune misure per fare in modo che il responsabile della pensione della corruzione per esempio segnale direttamente all'ANAC su possibili azioni ritorsive nei suoi confronti o anche semplicemente su azioni che hanno a che fare con l'impossibilità poi nella pratica di gestire quel ruolo in maniera efficace. Altro strumento, regolare con atti organizzativi generali il ruolo e la funzione del responsabile della prevenzione della corruzione, come si dice carta canta, quindi vuole dire che nel momento in cui l'organo di indirizzo politico descrive il ruolo e la funzione, la struttura, l'architettura della strategia della prevenzione della corruzione, lo mette su carta attraverso poi degli atti formali, dei libri e quello che volete voi, per fare in modo che il responsabile della prevenzione della corruzione abbia un disegno scritto. Sulle misure di prevenzione, sulla mancata attuazione delle misure di prevenzione, il responsabile della prevenzione della corruzione ha in questo momento il potere di indicare, per esempio gli uffici competenti dell'azione disciplinare, i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione, quindi se c'è per esempio una misura di rotazione e un dipendente a qualsiasi livello non l'attua o non l'attua correttamente, il responsabile può segnalare quel comportamento, per esempio all'ufficio dei procedimenti disciplinari io immagino ex articolo 8 del codice di comportamento, che è quell'articolo che si occupa prevalentemente proprio della prevenzione della corruzione, che dispone che il dipendente deve cooperare nella strategia di prevenzione della corruzione, come obbligo. Dovere del responsabile segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, quindi non solamente all'ufficio dei procedimenti disciplinari, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure. Tutti questi meccanismi dovrebbero migliorare le capacità organizzative del responsabile della prevenzione della corruzione di muoversi con più autonomia all'interno della sua amministrazione nell'ottica della strategia di prevenzione della corruzione. Sicuramente aiutano queste misure, chiaramente non avremo mai l'indipendenza, ma perché non c'è nell'architettura della legge 190, non esiste questa situazione, in altri ambiti internazionali i responsabili vengono nominati dal centro e quindi operano in una situazione di completa indipendenza, noi abbiamo scelto con la legge 190 questo sistema di delega funzionale da parte della stessa componente politica dell'organo di indirizzo. Ognuno chiaramente ha la sua opinione a riguardo, però non poteva essere un aggiornamento di un piano a inserire questo elemento, perché c'è bisogno di una modifica di tipo normativo e non se ne vede all'orizzonte alcuna possibilità in questa fase qui, anzi nelle recenti modifiche della normativa si va invece verso un rafforzamento della dinamica componente politica, organo di indirizzo, dirigenza e quindi in sostanziale controtendenza verso quelle che sono invece gli auspici di molti responsabili della prevenzione della corruzione che invece indicano nella debolezza strutturale di questa funzione uno dei problemi più grandi rispetto all'attuazione di questa nuova normativa. Altro elemento importante per il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione è l'unificazione tra i due ruoli, cioè si unifica, non esiste più il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza, ma si cerca di renderli un'unica funzione, un unico ruolo. Ci sono nuove forme di interazione con l'organo indipendente di valutazione e poi c'è questa nuova figura del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in capo al responsabile della prevenzione della corruzione. Andiamo ancora un pochino avanti, un'altra modifica, un'altra specificazione, vedete come l'aggiornamento del piano cerca proprio di rafforzare questo ruolo del responsabile, ne fissa una durata nell'incarico, tenendo conto della non esclusività della funzione correlata a durata del contratto sottostante è in carico dirigenziale già svolto. Nella mia interlocuzione periodica con il responsabile della prevenzione della corruzione con cui ho a che fare, mi viene appunto detto che secondo molti, credo anch'io giustamente, il primo organo, il primo ruolo che dovrebbe ruotare nell'ottica della strategia anticorruzione è proprio quello del responsabile della prevenzione della corruzione. In questo modo l'aggiornamento del piano si aggancia un po' all'incarico sottostante, vedete, nell'ipotesi di riorganizzazione e modifica il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico. Poi invece l'elemento molto importante e anche molto interessante è l'estensione generalizzata di doveri di segnalazione all'ANAC di misure discriminatorie, c'è stato un caso eclatante in cui in un'amministrazione, anzi non era proprio un'amministrazione, ma un'agenzia nazionale, il responsabile di prevenzione della corruzione aveva segnalato all'ANAC che era stato spostato da quel ruolo in via ritorsiva. In questo momento l'aggiornamento del piano afferma proprio la possibilità che il responsabile segnali all'ANAC ogni forma discriminatoria, quindi non più solamente in caso di revoca, perché quello era un caso se mi ricordo bene di revoca nei confronti del responsabile, quindi come vedete l'ANAC ora può intervenire anche prima della revoca, cercando di entrare in quelle dinamiche che devo dire vengono osservate in cui il responsabile della prevenzione della corruzione non è tanto al centro di una strategia, ma è ai margini e quindi viene fatto oggetto di situazioni di ritorsiva. Poi ultimo elemento, esclusione della responsabilità del responsabile nei casi di ripetute violazioni, qualora lo stesso possa provare di avere comunicato agli uffici le misure da adottare alle relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano, perché questo era un altro elemento critico, che il responsabile rispondeva del proprio operato anche quando c'erano fatti, anche in situazioni in cui era evidente che nonostante venissero messe in atto delle misure di prevenzione della corruzione, poi i stessi dipendenti non le attuavano, in questo caso come vedete c'è un miglioramento della situazione del responsabile che può escludere la propria responsabilità, questo è un fatto importante soprattutto per i responsabili. Vediamo un po' invece come il piano crea queste architetture interne, noi spesso ne chiamiamo Integrity Bureau, uffici dell'integrità, adesso stanno uscendo fuori soprattutto in ambito sanitario, sono delle ASL che stanno inserendo all'interno dei propri organigrammi degli uffici dedicati proprio allo sviluppo dell'integrità, per esempio in un'ASL toscana esiste un ufficio che si chiama Ufficio dell'integrità, della tutela e della partecipazione, che è un ottimo modo per intitolare un ufficio che più che occuparsi di corruzione si dovrebbe occupare appunto di sviluppo e di promozione dell'integrità e della partecipazione all'interno delle strutture sanitarie. Allora il nuovo piano, l'aggiornamento del piano nazionale si occupa proprio di cominciare a inserire negli organigrammi queste nuove strutture, queste nuove architetture, altamente auspicabile che il responsabile della prevenzione della corruzione sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità del personale e per mezzi tecnici al compito, quindi un integrity bureau, un ufficio di integrità come lo chiamerebbe l'Ocse, a cui appunto poi vengano associati anche poteri effettivi, con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina del responsabile, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, questa è una parte dedicata soprattutto al coinvolgimento degli attori interni, che è uno degli elementi più critici che sono stati rilevati in questi tre anni di attuazione, esiste il responsabile della prevenzione della corruzione, a volte questo responsabile è assolutamente solo all'interno dell'amministrazione, a volte il proprio gruppo non riesce a interloquire con i soggetti, i referenti o altri soggetti importanti per l'attuazione del piano e quindi tutto si risolve all'interno di dinamiche molto formali, quindi lettere circolari, mail a cui poi non si risponde mai perché ci sono troppe cose da fare, l'aggiornamento del piano si occupa proprio di fornire quegli strumenti di tipo organizzativo al responsabile e al suo gruppo di referenti per poter avviare e stabilire un dialogo fecondo, che abbia un senso profondo, perché solo quello ti permette, questo è abbastanza chiaro ormai, di scrivere un piano che abbia una sua dignità, come tutti i piani della prevenzione, non solo della corruzione, ma in generale tutti i piani che si occupano di prevenzione, l'importante è avere delle informazioni qualificate, l'importante è rappresentare bene la realtà che circonda quell'organizzazione, che sta dentro l'organizzazione e questo non lo può fare il responsabile della prevenzione della corruzione da solo, nemmeno attraverso uno sparuto gruppo di soggetti che gli ruota intorno, c'è bisogno di una effettiva ed efficace responsabilizzazione sia ai livelli apicali, sia anche e soprattutto ai livelli che in qualche maniera aiutano poi il responsabile sia nella scrittura che nell'attuazione del piano. Quindi è necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo responsabile, vedete come insiste il piano nazionale su questo Integrity Bureau. Qual è un altro elemento importante? Una struttura organizzativa a supporto dei responsabili è evidente che è necessaria anche alla luce delle rilevanti competenze in materia di accesso civico, perché si dovrà occupare dei riesami. Una delle novità della legge 97-2016 che modifica il decreto legislativo 33 è che le richieste di accesso civico, mentre prima si facevano solamente a responsabili della trasparenza, adesso si possono fare anche agli uffici detentori del dato e dell'informazione, oltre che all'URP, oltre che al responsabile della trasparenza e quindi della prevenzione della corruzione. Ma poi il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è incaricato di assumere tutte le istanze di riesame che poi vengono fatte dai cittadini se poi l'ufficio non ha risposto, quindi deve comunque coordinare un'attività conoscitiva e informativa molto importante. Si arrivano molte richieste di accesso civico e l'amministrazione in qualche maniera non le ravvisa di offrire un diniego, poi si potrebbe trovare il caso in cui il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si possa trovare sommerso di istanze, di ricorsi, di riesame, etc., e questo diventerebbe un fatto sicuramente molto difficile da gestire per il responsabile. In ambito sanitario, adesso veniamo ai nostri colleghi del Brozzo, perché in ambito sanitario la sezione speciale dell'aggiornamento del piano nazionale introduce alcune novità, soprattutto su come si identifica il responsabile della prevenzione della corruzione. Quali sono le conoscenze e le competenze che dovrebbe avere? Tanto chiaramente deve essere una conoscenza organizzativa della sanità pubblica e dei diversi processi, perché io che giro un po' l'Italia, soprattutto in campo sanitario, noi trattiamo soprattutto alcuni processi e alcuni processi non sono simili, anzi sono completamente diversi dai processi che troveremmo in un comune, in un ente locale, una regione come la regione Sardegna, i nuovi processi che sono stati identificati nell'aggiornamento 2015, come la gestione del post mortem, la gestione delle convenzioni, la libera professione intramuraria, ci sono dei processi che nell'ambito sanitario sono particolarmente complessi e rappresentano, fanno emergere dei particolari rischi, è chiaro che questo deve essere un campo di conoscenza e di competenze in cui il responsabile ci si trova, conosca. Conoscenza dei processi amministrativi e gestionali, ovviamente, e la loro specificità in ambito sanitario, capacità di valutare il contesto e gli snodi importanti di funzionamento della macchina assistenziale ed amministrativa, perché questa macchina è molto complessa ed è molto ampia, quindi tutte le relazioni interne ed esterne in ambito locale, regionale, extra regionale, perché come sapete la sanità opera a più livelli, e poi la conoscenza dei strumenti di programmazione, sistema di valutazione della performance, direi pure anche il conoscenza del risk management clinico, perché spesso e volentieri mi trovo a dialogare con il risk management in ambito sanitario, che ha un know how molto prezioso per questo tipo di situazioni, già esistono competenze forti in ambito sanitario, diversamente da altri ambiti in campo di risk management, quindi se una persona va in un ospedale, in un ASL e ragiona sul risk management di rischio corruttivo, spesso e volentieri si trova di fronte persone che hanno dimestichezza con questa metodologia, perché la usano nel risk management clinico, questo è un ambito molto interessante da sviluppare, le due cose dovrebbero andare insieme, in alcune aziende effettivamente si sta cominciando a pensare proprio di unificare i processi, perché poi i processi possono essere a rischio sia in ambito clinico, sia in ambito corruttivo. Negli enti del servizio sanitario nazionale, il responsabile della prevenzione della corruzione deve almeno occupare una posizione dirigenziale di struttura complessa o a valenza dipartimentale, poi chiaramente questo è noto a tutti, il responsabile della prevenzione della corruzione è una funzione aggiuntiva a invarianza di risorse economiche. Vedete che ANAC esclude per la nomina il responsabile, questo non è un'indicazione perentoria, ma gli esempi che vengono fatti dopo non sono esaustivi, sono a titolo indicativo, non possono essere fatti i responsabili della prevenzione della corruzione, i direttori generali, dirigenti sanitari e amministrativi ovviamente di struttura semplice, dirigente responsabile del settore gare e appalti che è uno dei processi che sono sotto la lente, dirigente responsabile dell'ufficio procedimento disciplinario ovviamente che è tutto un altro mestiere, dirigente esterni con contratti di collaborazioni perché sapete benissimo che il responsabile deve essere un dirigente interno. Se ci sono scelte residuali devono essere adeguatamente motivate, questo chiaramente serve alle organizzazioni della sanità pubblica per cercare di trovare un responsabile che sia davvero in quella posizione di autonomia e non di indipendente di cui vi parlavo prima e che conosca effettivamente le dinamiche di quell'organizzazione, queste un po' sono le indicazioni, queste erano state chieste a gran voce dai responsabili della prevenzione della corruzione perché poi venivano fatte delle scelte un po' ambigue, a volte ci trovavamo dei responsabili della prevenzione della corruzione che svolgevano anche ruoli gestionali molto importanti, per cui si veniva a creare quella situazione per cui il controllore e anche il controllato, questo non deve mai accadere, quindi anche i dirigenti che si occupavano di gare ed appalti diventavano poi responsabili della prevenzione della corruzione, questo non è possibile ovviamente. Il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere una figura di garanzia per l'istituzione sanitaria e non un incarico di natura fiduciaria. Questa è un'indicazione chiaramente un po' di massima, perché poi le leggi vanno invece, le nuove disposizioni normative vanno in tutt'altra direzione, però è importante che un documento programmatico come il Piano Nazionale metta questo nero su bianco, vedete come si fa a tenere separato, non correlando la nomina responsabile della prevenzione della corruzione con le nomine, per esempio quella del direttore generale, quando arriva il direttore generale in un ambito sanitario si muovono, ci sono nuove nomine, non si dovrebbe nominare il nuovo responsabile della prevenzione della corruzione, che invece deve essere un organo che ha nella sua stabilità, nella sua continuità, sapete benissimo che in ambito sanitario il turnover della componente politica dei direttori generali è impressionante, ci sono situazioni, ho visto in casi in cui in 3 anni sono ruotati 3 direttori generali, immaginate se a quello dovesse corrispondere una rotazione così forte, un turnover così importante a livello dei responsabili della prevenzione della corruzione, che secondo me ci impiegano almeno 3-5 anni per entrare effettivamente in quel ruolo, quindi è chiaro che queste due situazioni non possono andare d'accordo, i responsabili devono essere prioritariamente investiti della formazione, la formazione deve riguardare tutte le diverse fasi di costruzione del piano, perciò parlo di 3-5 anni, perché nei primi 2-3 anni si entra un po' dentro la metodica del rischio, dell'analisi del rischio, ma poi non bisogna cadere nell'illusione, come qualche volta avverto, che basta fare una buona mappatura dei processi, una buona analisi del rischio, abbiamo fatto il piano di prevenzione della corruzione, perché non funziona così, ci sono dei livelli molto più complessi, bisogna entrare un po' nella questione dell'analisi dei contesti interni e nella predisposizione di misure organizzative obbligatorie che abbiano una loro valenza, una loro qualità. Allora, ritorniamo al piano nazionale, perché adesso abbiamo fatto una breve digressione nell'ambito speciale della sanità pubblica, invece tornando un po' in ambito nazionale, quindi la prima parte del piano, dell'aggiornamento del piano, si ribadisce che le indicazioni contenute nel piano nazionale 2013 e soprattutto nell'aggiornamento del 2015 per la metodologia di analisi e valutazione dei rischi rimangono non vincolanti, quindi in realtà si può costruire una metodologia di analisi e valutazione dei rischi ad hoc per ogni amministrazione, questo è importante. Le misure di prevenzione devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. In questa parte del piano nazionale si dice attenzione che rimangono in piedi tutte quelle situazioni che l'aggiornamento del piano del 2015 aveva identificato, che soprattutto riguardavano la sostenibilità organizzativa delle misure di prevenzione della corruzione. In ambito sanitario immaginate, e poi ne parliamo un pochino della rotazione degli incarichi. Poi è necessario individuare soggetti attuatori, modalità di attuazione di monitoraggio e relativi termini. Quello che mancava nei piani, e che credo manchi ancora, soprattutto da un punto di vista qualitativo, è responsabilizzare non dico il singolo indipendente, ma almeno a livello dei dirigenti sulle misure di prevenzione della corruzione e sulle modalità attraverso cui si misura l'attuazione delle misure di prevenzione. Questo manca spesso, perché è difficile ovviamente, perché come può essere fatto? Attraverso il collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione e gli obiettivi specifici del piano della performance. Questo lo dicono tutti gli aggiornamenti da un sacco di tempo, chiaramente è uno degli elementi più complessi all'interno del piano, però sono chiaramente anche quelli che fanno la differenza. Iniziamo un po' con le misure, vediamo un po', perché l'aggiornamento del piano nazionale si occupa sia della figura del responsabile, ma poi si occupa in maniera prevalente delle misure. È la prima volta che succede questo, perché è importante, perché ormai sono passati tre anni e bisogna cominciare a ragionare su misure efficaci, voi sapete benissimo che la trasparenza attraverso il decreto legislativo 97 è stata un po' cambiata, ci sono state delle semplificazioni soprattutto su enti di complessità minore rispetto a quella in cui siete inseriti voi, quindi quello che secondo me è importante rappresentare è il nuovo accesso civico che è più ampio, quindi chiunque, non solo chi è titolare di interessi diretti può accedere a dati e informazioni detenute dalla pubblica amministrazione nel rispetto dei limiti di tutela di interessi pubblici e privati. Questo è un argomento molto ampio, è stato introdotto secondo il dettato della normativa, il cosiddetto Freedom of Information Act o FOIA, o libertà di accesso, una libertà generalizzata di accedere ai documenti e ai dati, secondo alcuni questo non è proprio un Freedom of Information Act a tutti gli effetti, si sta attendendo in questo mese o nel prossimo mese o nel massimo a dicembre un intervento dell'ANAC per sistematizzare questo nuovo accesso civico e soprattutto per dare delle informazioni un pochino più operative sulle cause di esclusione, quindi della libertà di accesso, quindi siamo in una situazione molto fluida, questo nuovo accesso civico entrerà in vigore più o meno alla fine di dicembre e creerà un po' di questioni, perché non è ancora chiaro come bisognerà organizzarsi. Queste nuove richieste di accesso civico potranno essere fatte, come dicevo prima, a tutti gli uffici, quindi questo creerà sicuramente un'esigenza di coordinamento in capo ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi questa misura dirà un po' modificata, la trasparenza proattiva, quella della pubblicazione dei dati anche subisce alcune modifiche, alcune semplificazioni, quindi questa è una misura un po' da seguire, non tanto sull'aggiornamento del piano nazionale, quanto sulle nuove termine che avremo soprattutto in… speriamo a breve… ok, mi sembra che era scomparsa la… non è che sia una cosa importante avere la mia faccia in giro, però sì… ecco, veniamo negli ultimi 10 minuti a parlare della misura più controversa di tutto lo… no? Ce ne sono alcune, questa è sicuramente una misura controversa, l'altra misura controversa è il whistleblowing, ma non abbiamo poi il tempo di vederla e l'aggiornamento del piano non riguarda il whistleblowing, invece l'aggiornamento del piano ha molte pagine sulla rotazione, perché la rotazione effettivamente è una misura che crea un grosso impatto organizzativo, la misura della rotazione degli incarichi è finalizzata a limitare quelle relazioni che possono alimentare dinamiche impropie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione, se un soggetto sta per molto tempo a fare sempre la stessa cosa, non solo perde motivazione secondo questo schema, quindi non solo mette a rischio la struttura da un punto di vista della qualità organizzativa, della qualità dei servizi, ma potrebbe entrare in dinamiche che lo possono mettere a rischio, è la stessa filosofia che c'è nella rotazione per esempio dei corpi di polizia, per cui vedete i carabini non stanno mai fermi nello stesso posto, a un livello molto più semplice, lo si prevede anche nel piano della triennale di prevenzione della corruzione come misura organizzativa, il problema è che questo soprattutto in ambito sanitario, questo in generale crea un forte impatto organizzativo, ma soprattutto in ambito sanitario diventa effettivamente, potrebbe essere un problema, far ruotare il personale all'interno dell'organizzazione. Dal punto di vista più o meno degli effetti positivi, come vedete questa misura potrebbe contribuire a formare il personale accrescendo le conoscenze, la preparazione professionale etc., quindi questa è un'altra cosa che si potrebbe sicuramente… e poi una misura impiegata in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Questa è un po' la teoria che c'è sotto, la rotazione degli incarichi non nasce nell'ambito dell'anticorruzione, è una misura del cosiddetto benessere organizzativo, è stata poi adottata dalla prevenzione della corruzione perché in qualche maniera oltre al benessere organizzativo c'è anche questo elemento delle cosiddette dinamiche a rischio, ed è una misura potentissima per scardinare soprattutto quei fenomeni che voi spesso osservate, oppure speriamo non li osservate, dei cosiddetti intoccabili, di quelle figure che rimangono e permangono all'interno di un centro di potere e nonostante i vari passaggi di soggetti, di componenti politiche, di organi di indirizzo, rimangono e permangono nella loro sfera di potere, quelli che potremmo definire in qualche maniera gli inamovibili, gli intoccabili, perché qual è l'efficacia di questa misura? Questa misura ha un aspetto molto interessante perché in qualche maniera fa ruotare i soggetti non sulla base appunto dei sospetti di corruzione, ma della fatto che semplicemente stare troppo tempo all'interno di un centro di potere, in una situazione e soprattutto dei processi a rischio, determina poi dinamiche improprie, genera dei rischi, sostanzialmente, quindi per abbattere quei rischi si fanno ruotare i soggetti, quindi questa è un po' la filosofia che c'è sotto. Ci sono delle condizioni per cui è impossibile utilizzare la ruotazione, non è il vostro caso, nei piccoli comuni, quelli con 10, 20 dipendenti, far ruotare il personale è veramente difficile e bisogna sostituire questa misura con altre misure ovviamente. Però invece il piano nazionale ribadisce che questa è una delle misure centrali nella strategia, altrimenti non avrebbe investito in tutto questo sforzo conoscitivo. Il responsabile verifica di intesa col dirigente competente l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio. Questa si chiama rotazione ordinaria, si ruotano quei soggetti che sono incardinati nei processi maggiormente a rischio. Chi fa questo tipo di operazione? Lo può fare il responsabile della prevenzione della corruzione da solo? No, proprio perché questa è una misura che ha un amplissimo impatto organizzativo, chi determina la rotazione deve essere la componente politica, un piano di rotazione degli incarichi fatto solamente dal responsabile della prevenzione della corruzione non ha alcuna speranza non solo di essere attuato, ma di essere credibile. Per fare un efficace piano di rotazione degli incarichi c'è bisogno di una copertura dell'organo di indirizzo politico e di una copertura anche tecnica per esempio del responsabile del personale, della gestione delle risorse umane. Questa si chiama rotazione ordinaria perché è una rotazione che si fa su incarichi in cui è elevato il rischio corruttivo, ma non ci sono state però delle situazioni di corruzione, c'è solamente il rischio. nella rotazione straordinaria che è l'altra situazione che è già prevista al DLGS 165, questa è una misura invece successiva a verificarsi di fenomeni corruttivi. Ecco, mi dicono di quindi rotazione ordinaria, ancora non si sono venificati, si spera non si verifichino mai situazioni corruttive, ma c'è un forte rischio, è stato identificato a quel processo attraverso la ponderazione dei rischi come uno dei processi a elevato rischio corruttivo e quindi ci si dedica alla rotazione degli incarichi. Invece la rotazione straordinaria è quella che si fa come misura successiva a verificarsi di fenomeni corruttivi proprio per escludere da quell'ufficio, da quella dinamica organizzativa dei soggetti che in qualche maniera sono sotto la lente proprio per essersi comportati in una determinata maniera. Questo sia a protezione degli stessi soggetti che poi avranno sicuramente un processo di tipo disciplinario, di tipo penale che poi confermerà o escluderà le loro responsabilità e quindi conviene tenerli un po' a bagnomaria perché in qualche maniera c'è bisogno di una verifica, sia poi invece a tutela dello stesso organismo, della stessa organizzazione perché magari ci possono essere fenomeni di segnalazione, cioè quei soggetti sono stati magari segnalati e allora bisogna escluderli da quella dinamica perché potrebbero mettere in atto comportamenti ritorsivi, quindi come vedete la rotazione straordinaria ha delle basi molto forti, qualche volta mi è capitato di ascoltare delle storie in cui chi ha segnalato, chi ha denunciato si ritrovava il soggetto segnalato o denunciato anche per questioni importanti a continuare a lavorare nello stesso ambito e chiaramente con tutti i rischi che questo comporta, i rischi di natura ritorsiva, di mobbing, soprattutto nelle dinamiche tra dirigente, leader e follower, in questo caso è molto pesante questo tipo di dinamica e quindi la rotazione straordinaria ha tutto un'altra ragione d'essere della rotazione ordinaria, sembrano quasi due misure completamente diverse, se ci fate caso sono effettivamente due misure completamente diverse, nella rotazione straordinaria non credo ci sia nessuno che in qualche maniera escluda questo principio dall'ambito della fattibilità, è una cosa che va fatta per tutelare sia l'organizzazione, sia le persone che ci lavorano dentro, sia lo stesso soggetto che è stato in qualche maniera indicato, nella rotazione ordinaria invece è un po' diverso, va discusso, capito come si può fare questa rotazione ordinaria. Il settore clinico, passiamo all'ambito specialistico, quindi alla sezione sanità del piano nazionale, quando parla di rotazione degli incarichi ci dedica un sacco di pagine, perché nell'aggiornamento del piano la rotazione degli incarichi in ambito sanitario è forse uno dei capitoli maggiormente esplorati dal criticità ed elementi di valutazione, qui abbiamo un problema legato specificamente al settore clinico, il settore clinico è vincolato dal possesso di titoli e competenze specialistiche e di expertise consolidate che inducono a considerarlo un ambito in cui la rotazione è di difficile applicabilità, io dico spesso nelle lezioni ci provate a far ruotare il primario di ginecologia con il primario di odontoiatria, ci sono delle situazioni piuttosto difficili da immaginare. Quindi in ambito clinico è molto complesso, però non è detto che non si possa fare, però vediamo cosa indica il piano nazionale. Gli incarichi amministrativi e o tecnici richiedono anch'essi in molti casi competenze tecniche specifiche, ad esempio ingegneria, clinica, fisica, sanitaria, ma anche nel caso di competenze acquisite, allora in ambito amministrativo è un po' più sfumata la complessità, però rimane comunque un elemento di criticità, di complessità e questo generalmente vale per tutti, perché se è vero che ruotare dopo 3 anni permette alle persone di cambiare aria, di ossigenarsi in qualche maniera, dall'altra parte è vero pure che le persone imparano attraverso l'esperienza e quindi qual è il contro di tutta questa operazione? Che si potrebbero verificare situazioni di indebolimento strutturale di alcuni uffici proprio a causa della rotazione e noi sappiamo benissimo che l'indebolimento di un ufficio, il fatto che per esempio un titolare di un ufficio non sia così competente nella tecnica specifica, mette altrettanto a rischio di comportamenti corruttivi, perché? Perché poi nelle dinamiche che ci possono essere all'interno di queste organizzazioni, avere un soggetto debole rafforza il rischio corruttivo, questo penso sia un elemento che osservate spesso, abbiamo bisogno di soggetti che negli incarichi siano assolutamente in grado di governarli e di avere quell'occhio anche che spesso e volentieri viene fuori soprattutto dall'esperienza, perché sanno valutare istantaneamente alcune richieste da parte di altri soggetti, nelle normali dinamiche che esistono all'interno delle organizzazioni pubbliche e che sanno attribuire a determinati comportamenti una lettura immediatamente, questo comportamento genera un certo rischio, questo comportamento non lo genera. La rotazione degli incarichi mette in discussione anche questo, mette in discussione la capacità dei soggetti di operare questa efficace distinzione proprio per il fatto che questo si acquisisce attraverso a volte l'esperienza, non attraverso lo studio, attraverso l'applicazione o la disciplina didattica o accademica, alcune cose si apprendono stando sul campo, stando in trincea e questo è un problema soprattutto per quando si mettono in moto meccanismi di rotazione. Ultimo elemento, la rotazione anche degli elementi di tipo culturale, in altri ambiti culturali la rotazione delle incariche è molto più facile, più agevole negli stati del Nord America, soprattutto in queste situazioni da cui proprio ci provengono un po' tutte queste strategie, perché la mobilità dei lavoratori sicuramente viene vissuta in maniera meno traumatica della mobilità che c'è qui in Italia, per cui mobilità non significa solamente mobilità fisica, significa mobilità anche funzionale, per cui uno si trova a fare cose diverse nella propria vita, nella propria carriera professionale. In Italia siamo un po' più resistenti, diciamo così e invece consideriamo l'applicazione del nostro lavoro un po' più strutturata, stabile e gli avanzamenti di carriera, quindi diventa anche un po' più complicato spiegare questa rotazione anche da un punto di vista proprio culturale. Rotazione, vediamo, criticità ed elementi di valutazione, i dirigenti per il tipo di poteri che esercitano e per il fatto di costituire un riferimento per il personale dipendente sono le figure la cui funzione e azione può provocare danni consistenti, vedete come io dico purtroppo il piano nazionale insiste sul fattore umano solo come fattore di rischio, perché si potrebbe dire così, ma si potrebbe dire anche il contrario di questo, proprio perché costituiscono un riferimento per il personale indipendente, possono essere elementi di integrità, di cui la funzione può provocare invece importanti vantaggi se vengono valorizzati in maniera appropriata. Certo se c'è questo tipo di idea del dirigente è chiaro che sono sempre degli elementi di rischio e quindi vanno ruotati giustamente, si tratta quindi di figure maggiormente soggette a ruotare, se sotto c'è questo tipo di pericolo, è chiaro che i dirigenti sono gli elementi principali per cui vanno fatti ruotare in qualche maniera. Al fine di contemplare l'esigenza della rotazione degli incarichi con quella del mantenimento dei livelli di competenza, occorre preliminarmente individuare le ipotesi in cui è possibile procedere alla rotazione degli incarichi attraverso la puntuale mappatura degli incarichi funzioni apicali più sensibili. Prima di fare la rotazione dice il piano, e questo è assolutamente condivisibile, va fatto un lavoro di mappatura, soprattutto degli incarichi delle funzioni più sensibili, quindi in realtà molti stanno facendo, alcuni giorni hanno già fatto veri e propri piani di rotazione del personale, non si può a mio avviso inserire una misura di rotazione in maniera estemporanea, soprattutto nelle organizzazioni complesse, ci deve essere una pianificazione a livello addirittura dell'ufficio del personale e della direzione generale, quindi secondo me per fare bene la rotazione bisognerebbe fare un piano di rotazione degli incarichi almeno triennale, che venga strutturato dal responsabile della prevenzione della corruzione in assoluta cooperazione con il responsabile del personale e che venga adottato formalmente dalla direzione generale, questo è un elemento fondamentale a mio avviso, questo dà garanzia che poi questo piano venga effettivamente attuato, quindi quei piani triennale di prevenzione della corruzione in cui ho osservato alla fine ci sono appunto la pianificazione delle misure, in cui c'è scritto qui il personale in questo processo andrebbe fatto ruotare o va fatto ruotare, secondo me non è sufficiente, secondo me va fatta una pianificazione in cui nel primo anno vanno assunte tutte le informazioni, appunto la mappatura degli incarichi funzionali apicali e il collegamento tra questa mappatura e l'analisi e valutazione dei rischi corruttivi, secondo me già quello è un'operazione molto importante da fare e poi avviare la rotazione già dal secondo anno, questo dà credibilità a questa operazione perché le persone si preparano in qualche modo e dà una giustificazione perché a volte abbiamo osservato in maniera estemporanea ovviamente però c'è il pericolo che questa misura della rotazione venga usata a fini ritorsivi, c'è stato un caso eclatante in un comune della Lombardia in cui il capo dei vigili urbani di quel comune non è stato confermato nel suo ruolo attraverso una misura della rotazione degli incarichi, con la giustificazione della rotazione degli incarichi, ma invece il tribunale ha affermato che quella era una misura di carattere ritorsivo perché questo capo della polizia locale aveva denunciato alla Corte dei Conti qualcuno all'interno di quel comune lì, allora il sindaco ha attraverso la rotazione degli incarichi operato un atto ritorsivo, non confermando quel soggetto, cioè il segnalante o il denunciante nel suo precedente incarico, vedete come nel meraviglioso paese in cui noi viviamo c'è questa grande immaginazione per cui si usa una misura del piano anticorruzione in maniera ritorsiva nei confronti di un soggetto che ha fatto una segnalazione o una denuncia, quindi immaginate che impatto organizzativo ha questo tipo di misura e che quindi non può essere lasciata all'estemporaneità, va fatta una pianificazione di un certo livello, vanno inserite all'interno di questa pianificazione vari soggetti e soprattutto ci vuole il cappello istituzionale dell'organo di indirizzo, altrimenti non avrebbe quasi valore a mio avviso. Nell'ambito dell'area clinica, quali sono le posizioni di maggior interesse per la rotazione? Potrebbero essere le direzioni di unità operative complesse a valenza dipartimentale e i dipartimenti, a parte alcune eccezioni che il piano dovrebbero ridursi, le posizioni epicali di direttore di unità operativa complessa, le cui funzioni cliniche prevalgono su quelle gestionali, sono assegnate per concorso e sono generalmente infungibili all'interno di un'azienda sanitaria, quindi le posizioni di capo dipartimento, funzioni prevalente gestionali sono anch'esse assegnate per concorso seppure la scelta avvenga all'interno di una rosa di idoni. È possibile ritenere che tutti i dirigenti di quel dipartimento siano potenzialmente suscettibili di ricoprire a rotazione l'incarico, vedete come questo è un modo per smussare un pochino le difficoltà di applicazione di questa misura. Quello era l'ambito clinico, in ambito amministrativo non esistendo una specificità di profilo per ricoprire un incarico abicale, come nel caso dei clinici, tuttavia è fondamentale per non perdere una specificità di competenza che periva dalla formazione e dall'esperienza, questo lo dicevamo, abbiamo appena affermato. Quindi è necessario che le aziende realizzino la rotazione attraverso processi di pianificazione e di qualificazione professionale, questo è importantissimo. Qual è l'elemento che in qualche maniera salverebbe capra e cauli? Una rotazione su base territoriale. Ora, non è tanto possibile per un ospedale, ma per una ASL sì, esistono varie strutture territorialmente collegate all'organizzazione di una ASL, quindi se una rotazione non può essere di tipo funzionale, almeno si potrebbe immaginare una rotazione di tipo territoriale, si continua a fare lo stesso lavoro, però in un ambito territoriale un pochino diverso. Questa è una delle soluzioni che si potrebbe utilizzare in ambito sanitario, questo chiaramente è semplicemente per ridurre un po' quei rischi collegati alla rotazione, ma non li esclude in maniera assoluta. L'area tecnica amministrativa, una possibile alternativa potrebbe essere quella della segregazione delle funzioni, questa è una interessante novità del piano nazionale, che cos'è la segregazione delle funzioni? Sono attribuiti a soggetti diversi compiti relativi a svolgimento di istruttori e accertamenti, adozione di decisioni, attuazione delle decisioni presi e effettuazione delle verifiche, se all'interno di un processo esistono queste 4 aree di intervento, quindi sono tutta la parte istruttoria, quella dell'adozione di decisioni, quella dell'attuazione e quella del monitoraggio e valutazione, allora ad ognuna di queste macrofasi, potremmo chiamarle così, viene assegnato un incarico specifico e vengono fatti ruotare poi i soggetti all'interno di questa articolazione. Questo chiaramente nei processi che hanno, permettono di fare questo tipo di operazioni. Nei casi di processi decisionali brevi, tipo le attività ispettive, gli incarichi legali, gli incarichi in commissione di selezione, si potrebbero attivare degli albi, la misura dell'attivazione di albi, di whitelist, di shortlist, adesso va di moda un pochino questo tipo di categorizzazione, la selezione viene fatta a monte, vengono selezionate alcune caratteristiche, alcuni requisiti che vengono fatti prima dell'assegnazione per poter sganciare l'assegnazione da possibili interessi, da possibili situazioni. Queste sono situazioni abbastanza note e tipiche di organizzazioni come le regioni e gli ospedali. Per le altre professioni sanitarie, come per esempio i farmacisti, le professioni infermieristiche con funzioni di responsabilità e di coordinamento, il cui ruolo è strategico, l'applicazione della ruotazione si rivela opportuna e presenta margini di applicazione, quindi secondo il Piano Nazionale queste figure qui possono effettivamente ruotare senza particolari problemi, questo afferma è il Piano Nazionale. Quali sono le cose che si deve fare per avviare una buona attività di formazione? Bisogna prevedere periodi di affiancamento e di formazione specialistica, ecco perché c'è bisogno di una pianificazione rilevante, perché magari nel primo anno, più che fatta la ruotazione va messa in piedi un'operazione di affiancamento e formazione specialistica rilevante, non si possono lasciare sguarniti i reparti o sguarniti i dipartimenti amministrativi da competenze o esperienze di un certo tipo per un tempo così ampio come per esempio è, sono sei mesi, immaginate cosa può succedere in sei mesi all'interno di organizzazioni così complesse come l'ambito sanitario, ma dico io anche la regione, in questo non esiste una differenza strutturale, quindi affiancamento e formazione specialistica sono al cuore di una buona campagna, diremmo così, di rotazione degli incarichi. Il principio della rotazione deve essere un obiettivo effettivo, documentabile e verificabile, di nuovo torna l'esigenza di una pianificazione strategica, quindi la rotazione va quindi vista come una condizione prospettica da costruire attraverso meccanismi aziendali, quindi pianificazione interna da collegare con la pianificazione che fa riferimento alla performance e alla gestione del personale, vedete, valutazione della performance, analisi dei potenziali delle risorse umane, ma il piano nazionale si spinge a dire che la rotazione deve riguardare anche il personale non dirigenziale, almeno quella ordinaria, specie se preposta ad attività afferenti alle aree maggiormente sensibili al rischio, quindi in particolari casi in cui l'ospedale in questo caso individua determinati processi come particolarmente esposti a rischio corruttivo, non solo i dirigenti devono ruotare, ma devono ruotare anche il personale non dirigenziale, sempre in quella architettura che vi ho descritto prima. Altra misura importante è il whistleblowing, perché il piano nazionale, questo ritorniamo nell'ambito nazionale, scusate, nell'ambito non specifico della sanità, ma nell'ambito generale, la misura del whistleblowing, come sapete, altra misura molto controversa, non a caso io ho scelto queste due misure, però sulla rotazione degli incarichi ci siamo soffermati sicuramente di più, nel whistleblowing ci soffermiamo di meno, perché? Perché in realtà sono alla vista delle particolari novità, ANAC si è già espressa con la determinazione numero 6 del 2015, che viene recepita appunto dal nuovo piano nazionale, dice una cosa interessante, non vi è una gerarchia fra i canali di segnalazione previsti dal legislatore, non dovendosi sanzionare disciplinarmente il dipendente che non si rivolge all'interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di maladministration, perché nella nostra Italia così interessante, così colorita, si sono sanzionate situazioni in cui un dipendente si è recato direttamente dall'autorità giudiziaria invece di denunciare internamente e quindi come presumibilmente vedere insabbiata la propria segnalazione, questa assurdità purtroppo è successa e quindi l'ANAC si trova nella spiacevole situazione di dover affermare una banalità sostanzialmente, nell'architettura di tutti i sistemi di whistleblowing del mondo esistono i diversi canali di segnalazione, proprio perché le persone non è che per forza devono rispettare la gerarchia di questi canali, perché proprio nel superiore gerarchico potrebbero intravedere il rischio di comportamenti corruttivi, quindi c'è bisogno di rivolgersi per esempio direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione, potrebbero identificare anche nel responsabile della prevenzione della corruzione un soggetto a rischio, magari non idoneo a supportarli nella loro segnalazione e allora hanno a disposizione la segnalazione direttamente all'autorità nazionale anticorruzione, quindi vedete nell'architettura bisogna avere, quello che richiede la teoria è avere più canali di segnalazione, perché questo ti mette al riparo da averne uno soltanto, ma questo non esclude il fatto che poi si possa decidere di andare direttamente a denunciare, se il fatto ovviamente è un reato, direttamente all'autorità giudiziaria, non c'è questa gerarchia. Poi, secondo elemento, l'ANAC si sta dotando di una piattaforma open source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse che sarà messa a disposizione delle amministrazioni, recentemente si è chiusa questa gara, siamo in attesa dell'assegnazione a un operatore economico di questa piattaforma open source, il cui elemento interessante è che verrà messa a disposizione dell'amministrazione, quindi alle amministrazioni che mi chiedono da un po' di tempo come bisogna operare sul whistleblower, dico semplicemente aspettate che esce fuori questa piattaforma, vediamo le regole di ingaggio, vediamo i protocolli tra ANAC e le amministrazioni, e solo successivamente, perché a quel punto si capirà come funzionerà il meccanismo di segnalazione, a quel punto si potrà operare in maniera più consapevole sostanzialmente. È molto interessante perché queste piattaforme open source, tra virgolette, promettono la cifratura e anzi assicureranno probabilmente la cifratura sulla fonte della segnalazione, quindi i responsabili della prevenzione della corruzione o l'ANAC non sapranno, non conosceranno il nome del soggetto che ha fatto la segnalazione, ma avranno un codice e potranno dialogare con questo soggetto attraverso questo codice identificativo. Questo è molto importante non solo per il segnalante, ma anche per chi riceve la segnalazione che a volte la conoscenza del soggetto che fa la segnalazione potrebbe influenzare, potrebbe essere un materiale controverso e quindi si cerca di escludere alla fonte anche questo, che non significa che le segnalazioni sono anonime, attenzione, perché la legge ancora non lo permette, semplicemente significa cifrare alla fonte l'identità, che però esiste da qualche parte all'interno del sistema che verrà messo in piedi. Non lo sappiamo ancora, però cerchiamo di capirlo appena uscirà questa disposizione. Vediamo un po' nell'ambito sanitario alcune misure specifiche, perché poi il Piano nazionale in qualche maniera dedica molto spazio a delle misure specifiche in ambito sanitario e così ci avviamo verso la fine di questo webinar. Incarichi e nomine, le nomine in ambito sanitario sono uno dei processi sicuramente a rischio, tra i principali rischi connessi alla fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice, rientra quello di accordi per l'attribuzione di incarichi. Vi ci ritrovate? Probabilmente sì. Quali sono le possibili misure che il Piano nazionale mette in campo? Pubblicazione di criteri di selezione della commissione giudicatrice, non solo chi è dentro la commissione, ma anche attraverso quali criteri viene selezionata la componente che verrà a far parte della commissione giudicatrice, il monitoraggio dei sistemi di selezione dei membri stessi, la rotazione, vedete che dentro questo sistema la rotazione è costante, questa però non è la rotazione degli incarichi, questa è una misura specifica per le commissioni giudicatrici, la definizione di un tempo minimo per partecipare alla nuova commissione e la verifica preliminare di eventuali profili di incompatibilità e conflitto di interessi. L'incompatibilità evidentemente ci sono ragioni specifici, sul conflitto di interessi qual è poi la misura? Far firmare un'autocertificazione che dichiara l'inesistenza di conflitti di interessi, magari poi ne parliamo più specificamente quando parleremo di conflitto di interessi, a mio avviso una cosa del genere non basta, c'è bisogno di qualcosa di più forte, più efficace. Ancora, sempre sullo stesso rischio, un'altra misura è il massimo livello di trasparenza e l'utilizzo di strumenti di valutazione che privilegino il merito e l'integrità del professionista e chi mai potrebbe essere contrario con una tale affermazione. Allora, riguardo ai rischi collegati alle nomine, l'aggiornamento 2016 del piano nazionale evidenzia particolari rischi in riferimento a particolari incarichi della dirigenza sanitaria in campo soprattutto. Ci sono particolari rischi collegati alla direzione di struttura complessa, direttore di dipartimento, a natura professionale anche di alta specializzazione, su questi sono i rischi che vengono. Altre situazioni che vengono identificate già nell'aggiornamento 2015 come situazioni di forte rischio sono quelle dell'attività di libero professionale, è un'area di rischio specifico perché è specie con riferimento alle connessioni col sistema di gestione delle liste d'attesa e alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni, chiaro, identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni, eccetera, tutta la parte delle autorizzazioni per la libera professione, lo svolgimento effettivo di quelle attività e l'interferenza con le attività istituzionale, quanti livelli di rischio specifici collegati all'attività libero professionale, che rimane uno degli elementi più, come dire, che generano maggior rischio all'interno dell'ambito sanitario. Come si può fare, quali sono le misure per ridurre e mitigare questo rischio? Intanto il piano nazionale, l'aggiornamento del piano nazionale, ne identifica alcune, ve le cerco di dire in maniera, informatizzazione e pubblicazione in apposita sezione del sito web delle agende di prenotazione delle aziende sanitarie, questo è un elemento, io utilizzo nei miei seminari formativi il primo caso che utilizzo è sempre un caso di gestione di agenda di prenotazione fatta in maniera poco trasparente, l'ho messo come primo caso proprio perché secondo me questo è un fenomeno abbastanza rilevante ed è molto esplicativo di quello che può succedere all'interno del rischio corruttivo, quello che nuovamente non si percepisce come rischio corruttivo, delle prassi consolidate, come decidete voi come chiamarle. Altra misura, separazione dei percorsi interni di accesso alle prenotazioni tra attività istituzionali e attività libero professionale intramene, quindi avere dei percorsi separati, uno per l'attività istituzionale e l'altro per l'attività libero professionale. Unificazione del sistema di gestione delle aziende, delle agende di prenotazione nell'ambito del centro unico di prenotazione, il CUP diventa il centro, questo già è ampiamente fatto, non è che il nuovo piano nazionale introduce particolari novità, sappiamo tutti che il CUP già opera un po' in questo spirito qui. E poi l'utilizzo delle classi di priorità clinica per l'accesso alle liste di attesa differenziate, questo è un po' lo schema che viene utilizzato dal piano nazionale per mitigare i rischi che sono in questo ambito. C'è una domanda sulla parte precedente, quella sulle commissioni giudicatrici, cosa pensiamo dell'introduzione di elementi di valutazione reputazionale? Questa è un'ottima domanda, sulle commissioni giudicatrici legate a livello di contenzioso dei candidati e delle performance dei selezionali, perché l'ambito della valutazione reputazionale è un ambito molto interessante, ma anche molto difficile, su che base si fa la valutazione reputazionale, chi certifica la valutazione reputazionale? Ci sono tutte questioni che ancora non abbiamo sviluppato moltissimo, eppure esiste un forte dibattito sulla questione della valutazione reputazionale, per esempio in ambito privato la valutazione reputazionale di un'impresa si chiama rating, rating di legalità, è già un processo che viene attuato, è già un processo attraverso cui si selezionano soggetti che poi operano con la pubblica amministrazione, quindi è un piano che assolutamente va rafforzato e introdotto come misura all'interno di come suggerisce la dottoressa Ranno, secondo me è molto importante. Mi dicono di lasciare un po' di spazio alle domande, io sono assolutamente d'accordo con questa della dottoressa Ranno, diamo Fabio Medda una piccola riflessione, a mio avviso l'accesso civico, che è più che un semplice accesso, sembra in concreto un obbligo di pubblicazione a carico dell'APA, io ho scritto un po' di cose su questa storia dell'accesso civico, se volete poi sul mio blog spazioetico.com trovate molti riferimenti al nuovo FOIA, io lo chiamo il sedicente FOIA perché secondo me non c'entra molto con la libertà di accesso, abbiamo ancora parecchio da fare per arrivare a quel tipo di situazione, Fabio dice il decreto 97 ha introdotto definiremente l'irrilevanza della legittimazione soggettiva all'accesso agli atti, è vero, però ha anche introdotto rilevanti cause di esclusioni, quindi in realtà poi non è proprio così ampia questo accesso, in pratica viene meno l'obbligo di motivazione e l'interesse diretto concreto e attuale, esatto, un po' come avviene da sempre per l'accesso a informazioni ambientali. È vero, però io vorrei anche dirti, vai a vedere le cause di esclusioni, sono molteplici, sono scritte in maniera molto vaga e vediamo un po' come ANAC le interpreta, perché il punto di rimente è vedere come ANAC nella prossima determina, che appunto aspettiamo entro il prossimo mese, al massimo a dicembre, dovrà rendere un po' più operative queste cause di esclusione. La qualità dei sistemi FOIA, Freedom of Information Act, si ha proprio in riferimento alle cause di esclusione, se noi abbiamo cause di esclusione molteplici e vaghe, nonostante poi ci sia una volontà di aprire informazioni a chiunque, quindi senza l'interesse diretto, è però poi questo si scontra con una vaghezza che può essere poi interpretata in maniera discrezionale dai soggetti che poi sono chiamati ad applicare questa norma. Quindi più che sui principi, è chiaro che siamo tutti d'accordo sulla libertà di accesso, eccetera, vediamo poi come operativamente questa libertà di accesso può essere esclusa. Se ci sono cause tassative di esclusione, siamo abbastanza in linea nell'ambito internazionale dei Freedom of Information Act, se le cause di esclusione sono molto vaghe e lasciano un ampio spazio alla valutazione discrezionale di chi poi le dovrà applicare, allora siamo in una situazione un po' intermedia, abbiamo ancora bisogno di svilupparle. Questo sarà in qualche maniera determinato e valutato, soprattutto a seguito dell'uscita delle indicazioni dell'ANAC, quindi in realtà ancora dobbiamo aspettare un po' per vedere poi la potenza di questa nuova normativa. Ora sono le 10 e mezzo, io avevo ancora qualche pochissime slide sulle misure, ma queste le lascio sicuramente a voi, molto semplicemente riproducono un po' quello di cui stavamo parlando delle misure. Vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione, credo che ci rivedremo presto. Saluto anche Daniela Isola, aspettiamo se ci sono ancora domande. Maria Antonietta Colle dice che l'introduzione di elementi di valutazione reputazionale sarebbe sicuramente una scelta ottimale, ma con regole certe, altrimenti succede come sempre. Esatto, il problema della valutazione reputazionale sta nell'aspetto qualitativo delle valutazioni, sono valutazioni ovviamente che hanno un margine qualitativo, non si può fare una valutazione reputazionale solo su base quantitativa, sul fatto che non ha mai avuto problemi con la giustizia, quello non è un elemento fondante. Le valutazioni reputazionali sono su come tratti i tuoi dipendenti, se sei un operatore economico, su come sei organizzato, su determinate dinamiche che vanno un po' studiate. Però sicuramente è un ambito interessante per una commissione giudicatrice avere all'interno soggetti che sono stati valutati da un punto di vista reputazionale come adatti, perché non hanno determinate situazioni di conflitto di interessi, perché non hanno mai subito nessun tipo di procedimento disciplinare, non hanno mai subito nessun tipo di procedimento penale, è un ambito molto interessante, ma va sviluppato bene, altrimenti diventa appunto il cavalierato, un secondo cavalierato che non significa nulla. Ok, ci sono i saluti e i ringraziamenti, quindi io vi saluto ogni volta e vi auguro una buona settimana lavorativa perché siamo a fine ottobre e buona giornata a tutti, saluto a tutti!